il video di oggi inizia ovviamente con dei grandissimi complimenti alle juventus women un'impresa incredibile in champions league di sera bravi ragazze ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video oggi ancora una volta andiamo a parlare della juventus che sarà quella della prossima stagione 22 23 l'addio di dibale è soltanto il primo tassello che ci porterà a vedere una nuova juve che potrebbe essere molto diversa da quella di quest'anno o molto simile con qualche ritocco ed è qua che vi faccio la prima domanda secondo voi ci sarà una vera e propria rivoluzione oppure si andrà a sistemare qualche tassello perché in effetti pensandoci oggi ci sono diversi giocatori in bilico diversi giocatori in scadenza diversi giocatori in prestito che potrebbero non essere rinnovati e quindi sto cercando di fare mente locale io in primis per capire chi rimarrà e chi no l'altro giorno avevamo parlato proprio qua su youtube avevo fatto una lista dei giocatori che potevano uscire di quelli che poteva rimanere oggi ve la faccio in maniera grafica e potrete giocarci anche voi su questa cosa un po come l'altro giorno sulle pagelle avevo creato una tier list per fare le valutazioni delle singole partite oggi vi ho creato una tier list della rosa 2021 2022 quindi quella attuale odierna la juventus che si divide in confermati cioè quelli che secondo voi rimarranno alla juventus in bilico ma sì cioè giocatori che sono in scadenza o in prestito ma che alla fine rimarranno alla juventus bilico ma no stessa cosa giocatori in scadenza in prestito ma che alla fine secondo voi se ne andranno dalla juve out quindi ufficialmente fuori che secondo voi proprio lasceranno la juve come di bala che sono già stati annunciati come partenti o aggregati cioè giocatori magari secondari che sono sì componenti della rosa della juventus ma magari come under 23 e che quindi l'anno prossimo non saranno veri e propri protagonisti e one football da scaricare qui sotto in descrizione applicazione sponsor di questo canale youtube perché è vero che oggi parliamo di juventus a quest'ora ma stasera c'è la nazionale vedrete che il discorso andrà anche un po ad intrecciarsi e io sono assolutamente curioso di capire se riusciremo a partecipare finalmente a questo mondiale che veramente mi manca terribilmente quindi stasera saremo forti tinte azzurre ne parleremo faremo anche la diretta su twitch e poi qua il post partita classico su youtube perché luca la juventus non rinnova uno come di bala ma sta proponendo i rinnovi ai giocatori come bernardeschi de sciglio perin e così via nel senso di bala è un giocatore importante gli altri sono giocatori secondari quindi non si spiegano queste persone perché effettivamente la juventus ha detto no a di bala invece per gli altri c'è una porta aperta è molto semplice di bala fa parte di quei giocatori che diventano importanti catalizzatori del progetto sia in maniera economica sia in maniera diretta sportiva sul campo un titolare per intenderci tanti altri giocatori invece devono andare a riempire la rosa deve essere delle riserve o dei giocatori aggregati alla prima squadra ma che non sono assolutamente dei titolari inamovibili ed è per questo che si sta cercando di rinnovare al ribasso bernardeschi che non può guadagnare 4 milioni da riserva de sciglio che non può guadagnare 3 milioni da riserva o lo stesso perin che ora in scadenza ma che la juventus sarebbe contenta di avere ancora perché lo ritiene un ottimo secondo portiere quindi ho pensato un po e l'altro giorno vi dicevo ragazzi occhio che se non si rinnovano alcuni contratti si rischia di dover acquistare 7 8 giocatori e sono tanti in una singola sessione di calcio mercato quindi ho cercato di capire chi potrebbe rinnovare chi potrebbe non rinnovare e questa è l'immagine giusto sottolineare come questo non è quello che farei ma quello che credo avverrà quindi confermati scesni d'elite bonucci danilo pinsoglio chiesa locatelli zaccaria e blaovic per forza di cose gli ultimi acquisti e il mister massiliano allegri che secondo me verrà riconfermato in bilico ma sì cioè quei giocatori che potrebbero uscire ma che alla fine rimarranno quindi decidio che in scadenza che secondo me rinnoverà al ribasso proprio per quello che dicevo prima un riempitivo chiellini stesso che attenzione qua potrebbe decidere anche in base al mondiale in alternativa potrebbe entrare gatti che è stato un acquisto della juventus del mercato di gennaio morata che secondo me verrà riscattato a questo punto perché sennò proprio numericamente abbiamo veramente pochi giocatori da davanti con l'addio di dibala quindi credo che alla fine si farà un tentativo concreto per riscattare morata quadrado in scadenza che rinnoverà anche lui al ribasso mccenni che in bilico nel senso dovesse arrivare un'offerta potrebbe partire ma che secondo me alla fine rimarrà pellegrini perché assolutamente lo voglio vedere una seconda stagione la juve rugani perché ha un altro anno il contratto e se non arriveranno offerte rimarrà la juve per in che secondo me rinnoverà pure lui dal secondo portiere e ken che è in prestito in questo momento ma che penso farà almeno un altro anno dove dovrebbe poi concretizzarsi l'obbligo di riscatto a determinate condizioni ma quella è una valutazione che faremo in base ai risultati dell'anno prossimo in bilico ma no arthur perché se dovesse arrivare un'offerta secondo me potrebbe tremendamente partire era molto vicino all'addio già a gennaio vedremo un po cosa succederà e bernardeschi perché a quanto pare non è convinto del rinnovo al ribasso e quindi si farà una sorta di ragionamento simile a quello di dibala che è già negli out negli out metto anche alexandro e rabbio perché sono due contratti pesanti che secondo me la juventus non può più garantirsi e proveranno a cederli questa estate proprio sulla falsa riga di quello che è accaduto con dibala e poi negli aggregati c'è caio che purtroppo la prossima stagione la passerà i box o gran parte della stagione sperando che invece chiesa possa recuperare in fretta da un infortunio di minore entità è avvenuto prima e vari minetti a che soul e de winter che poi bisognerà capire che cosa fare con loro ma arriveremo perché in questo stesso video parleremo di di questo discorso qua quindi ho fatto due conti 18 giocatori dovrebbero essere confermati dalla rosa di quest'anno e 5 giocatori dovrebbero essere invece in uscita allora non sono meravigliato di solo 5 eccessioni eventualmente nella mia testa potrebbero essere solo 5 eccessioni per un motivo secondo me la rosa di juventus già oggi è buona ottima addirittura per la serie a dovessi iniziare oggi un campionato con questa stessa rosa per quanto mi riguarda la juventus andrebbe a giocarsela come prima o come seconda in classifica quindi o la juve o l'inter banalmente poi quello che succederà sul campo sarà un'altra roba quest'estate quando aveva iniziato il campionato invece non mi sentivo assolutamente da primo o da secondo posto e dicevo che sarebbe stata una lotta tra la terza e la quarta posizione poi il mercato di inverno il mercato di gennaio ha ribaltato questa gerarchia e secondo me è andato a migliorare sensibilmente la rosa della juve avvicinandola molto a quella dell'inter poi ripeto la carta è un conto il campo è un altro e infatti in questo momento alla prima posizione c'è il milan e alla seconda c'è il napoli potenzialmente insieme all'inter per via di una partita a recuperare quindi il campo è una cosa la carta è un'altra però secondo me la rosa della juve per il campionato di serie a e quindi tornare competitivi intanto in italia e poi provarci anche in europa provare a rifare delle serate magiche come quelle della nostra storia recente ormai sono passati cinque anni dall'ultima finale di champions quindi mi piacerebbe tornare dentro quelle range di squadre che arrivano fino in fondo anche in champions league beh secondo me in italia questa è una rosa che può assolutamente dire la sua praticamente uscirebbero artur bernardeschi dibala alexandro e rabbiò cinque calciatori e vi dico che per sostituirli andrei a prendere un difensore centrale perché con chiellini non possiamo assolutamente rimanere con quattro centrali un terzino sinistro al posto di alexandro un centrocampista un centrocampista con i piedi veramente buoni un ala un esterno e uno che ho chiamato jolly che in realtà è un centrocampista ma che può giocare un po in più posizioni inizierei da due parametri zero cioè rudiger difensore centrale di cui abbiamo già parlato vi lascio magari il video per non ripeterci qui sopra nelle schede e il secondo è già il jolly che è paul pogba jolly perché pogba veramente può giocare in tutte le posizioni del centrocampo quest'anno si è anche alzato ulteriormente sta giocando dietro la punta in appoggio al posto di bruno fernandez in tante partite con ragnik quindi può giocare lì e con allegri ha giocato anche esterno nel 4 2 3 1 quindi pogba veramente potrebbe andare a ricoprire più ruoli addirittura potremmo inventarcelo seconda punta per necessità può giocare veramente in tanti ruoli in tante posizioni perché un calciatore intelligente è anche lui un giocatore a parametro zero è un giocatore che la juventus riprenderebbe volentieri un giocatore che anche lui ha qualche problema fisico ma sicuramente che andrebbe a dare tantissima qualità in uno dei mi dispiace problemi della juventus danni a questa parte che è il centrocampo dove non riusciamo mai a dare quella scossa in più e quindi serve veramente un incremento della qualità del centrocampo e con pogba assolutamente arriverebbe un giocatore come pogba in serie a ragazzi potrebbe giocare per quanto mi riguarda in ciabatte perché veramente un conto è giocare in premier league un conto è giocare in serie a secondo me questo pogba anche questo pogba in serie a veramente dominerebbe dominerebbe poi due giovani che andrebbero pagati ma che andrebbero inseriti nel discorso della juventus di acquistare giocatori futuribili ed eventualmente rivendibili il primo è cambiaso terzino sinistro del genoa attenzione quando non sono convintissimo ma semplicemente perché il mercato dei terzini sinistri ragazzi è complicato cambiaso è sicuramente un obiettivo della juventus per il futuro non so se l'idea della juve buttarlo direttamente nella mischia perché comunque un classe 2000 e ha pochissima esperienza ancora in serie a quindi non so se lo ritengono già pronto per la juve a me cambiaso piace e anche tanto l'ho visto giocare anche un paio di partite in under 21 ribadisco da qui a dire la juventus lo acquista per essere titolare secondo me ce ne passa io vi metto questo perché mi sembra il nome più logico da inserire non ce ne sono tanti di terzini sinistri da poter mettere come papabile potenziale qua infatti chiedo il vostro aiuto come alternative però per il momento lasciamo cambiarsi ma tanto stiamo parlando di un concept siamo a marzo ragazzi non c'è neanche non siamo neanche arrivati ad aprile e stiamo già facendo la rosa l'anno prossimo però per gioco cerchiamo di capire quello che dovremmo andare a coprire il secondo è zagnolo altro obiettivo dichiarato della juve io ribadisco quello che ho detto anche ieri 50 60 70 milioni per zagnolo che sulla richiesta sono tanti il giocatore non si discute zagnolo è un altro di quelli che mi piace tantissimo e immaginarmelo da una parte chiesa dall'altra zagnolo con in mezzo vlaovic mi piacerebbe davvero un sacco perché andremo a formare un tridente veramente giovane e con tanto potenziale con tanta fantasia con tanto estro veramente sarebbe divertentissimo vedere un tridente di questo tipo dall'altra parte bisogna capire quanti soldi sono è anche vero che se due come rudiker e pogba li prendi a parametro zero e col decreto crescita perché vengono da un campionato estero e che quindi riesce a risparmiare su cartellino ingaggio è vero che l'altro colpo è cambiaso allora forse un singolo colpo che quello di zagnolo lo potresti anche andare a fare e poi c'è un ultimo giocatore che è il centrocampista che dovremmo andare a pagare ma sarebbe un vero e proprio colpo di mercato per diversi motivi e lo dicono anche oggi sulla gazzetta dello sport giorginio ecco perché torniamo sul discorso italia giorginio che ha una situazione complicata al celsi lo sappiamo il celsi per via del fatto che abramovic è russo e gli oligarchi e la guerra ci sono dei problemi ci sono dei giocatori in scadenza appunto 2023 come giorginio che potrebbero lasciare il celsi a prezzo di saldo e pensare di pagare 10 milioni di euro 15 milioni di euro quelli che saranno per giorginio più rudiger perché rudiger diventa un parametro a zero ecco che diventa molto interessante se aggiungiamo che anche giorginio venendo dall'estero diventa un giocatore che potrebbe andare a beneficiare del decreto crescita ecco che ancora una volta fai il discorso che hai fatto prima cartellino molto basso 10 15 milioni di euro essendo un giocatore anche in scadenza più decreto crescita ti permette di dare un po più di stipendio nella parte fissa e risparmiarci qualcosa sul lordo quindi insomma non sarebbe male pensare a tre acquisti dall'estero rudiger pogba e giorginio e sono tre giocatori ragazzi di assoluto livello rudiger e giorginio che hanno vinto tutto con con il celsi hanno vinto l'europa liga hanno vinto la champions league la supercoppa europea la coppa del mondo per club pogba ha vinto il mondiale e pogba lo conosciamo bene insomma sarebbero tre colpi proprio fatti bene non profili giovanissimi perché stiamo parlando di giocatori sulla trentina però non puoi fare una squadra solo con i prospetti serve anche un po di fosforo un po di mentalità un po di esperienza non eccessiva perché non stiamo parlando di giocatori troppo vecchi ma giocatori al top della carriera e che hanno vinto diverse cose quindi andresti veramente secondo me a formare l'equilibrio perfetto e dall'altra parte è ora di dare un po di possibilità a dei prodotti del tuo vivaio dei ctp che andrebbero a formare insieme agli altri giocatori la lista champions perfetta perché abbiamo sempre due tre slot liberi nei ctp e quindi valorizziamo alcuni giocatori come possono essere sole o a che sole potrebbe entrarci poi nel discorso dei ctp a breve quindi uno dei due sceglierne uno dei due un esterno a portarsi veramente dentro a juventus e renderlo un giocatore della prima squadra senza bisogno di rimandarlo in giro colander no si allena con la prima squadra per giocare con la prima squadra punto e fagioli non rovella ma fagioli perché ctp poi io non so se fagioli è pronto per la serie a non so se pronto per la juve ma iniziamo a metterli dentro le rotazioni facciamoli diventare i sesti del reparto sei centrocampisti di cui uno è fagioli sei attaccanti di cui uno è sole per dire in modo che possano essere considerati effettivamente giocatori della juventus e possano iniziare l'iter non voglio assolutamente buttarli nella mischia dare responsabilità senza no con calma intanto sono giocatori prima squadra juve non ti rubano spazio nella lista champions e li puoi schierare liberamente eccoli lì con un mercato del genere che non sarebbe neppure troppo dispendioso per quello che dicevo prima decreto crescita parametri zero un solo forse colpo investimento grosso che è zagnolo che magari lì si potrebbe anche ragionare con qualche contropartita immaginarsi una formazione di questo tipo schierata eventualmente col 4-3-3 in questo momento beh ragazzi io sarei felicissimo sinceramente scesni cambiaso rudiger danilo giorginio pogbalo catteli zagnolo vlovic chiesa beh sarei molto contento senza considerare che poi in panchina a disposizione avresti perin pinsoglio pellegrini chiellini bonucci rugani de sciglio fagioli zaccaria mccenni saule quadrado morata e moise ken insomma non andresti a spendere chissà che cosa l'unico vero colpo è zagnolo più il riscatto di morata ovviamente anche questo deve essere al ribasso cambiaso che in qualche modo col genua te lo puoi lavorare giorginio la spesa per il cartellino bassa per quello che sta accadendo pogba rudiger a parametro zero e io direi che hai ampiamente sostituito artur bernardeschi di bala alexandro rabiot migliorando la rosa allungando la rosa aggiungendo qualità aggiungendo freschezza aggiungendo spunti aggiungendo fantasia aggiungendo tecnica questa è un'idea di mercato che sinceramente mi piacerebbe molto poi sono curioso di sapere la vostra di quello che secondo voi accadrà attraverso la tier list ricordatevi questo è un giochino un'idea iniziamo a dare delle linee guida per il mercato io lo ribadisco l'addio di di bala deve essere sostituito deve essere rimpiazzato da due centrocampisti cioè pogba e giorginio sono l'idea di come sostituire la qualità il tasso tecnico di di bala più la possibilità di inserire un esterno come zagnolo ma che non deve essere visto come erede di di bala zagnolo deve essere visto come zagnolo la qualità invece deve essere spartita splittata e inserita all'interno del centrocampo dove da tanti anni a questa parte invece stiamo facendo un po di fatica vi piacerebbe una squadra come quella che vi ho fatto vedere fatemi sapere se riuscireste addirittura a migliorarla